buongiorno saluti a tutti che siete collegati o state ascoltando questo video vorrei presentarvi un progetto molto interessante la storia della sua creazione e sviluppo abbia già 45 anni questo è un progetto può fornirci entrare viaggi l'opportunità di fare storia attraverso in un progetto ambientale globale e allo stesso tempo creare capitale reale per la tua vita spensierata allora un'azienda UST con la sua filosofia si dice che il trasporto dovrebbe risolvere la maggior parte dei problemi e non dovrebbe essere la loro fonte della loro generazione UST offre tecnologia di trasporto sospeso il trasporto di passeggeri a merci fuori terra i mezzi UST si prosteranno infatti su uno speciale cavalcavia a fune rotaia fuori terra ottimizzando l'aerodinamica aumentando la velocità garantendo una sicurezza senza precedenti e un uso razionale del territorio e delle risorse minimizzando l'imparanto dei trasporti sull'ambiente tuttavia i costi di costruzione e funzionamento è molto inferiore rispetto alle soluzioni di trasporto disponibili per oggi ecco sono Praterina Dato Scivili un curatore dello sviluppo regionale nel campo dell'impelementazione della tecnologia ad alta velocità ho esperienza di lavoro in strutture statali 15 anni di esperienza nelle comunicazioni e nelle relazioni in ambito medico ho anche 18 anni di gestione di imprese private ad esperienza impreditoriale nel settore delle vendite e dei servizi sono una specialista certificato di lingua italiana livello a 2 e anche specialità specialista certificato di mediatore europeo interculturale ecco il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà del signor Anatoly Junetsky e la proprietà intellettuale del suo progetto è stimato in 400 miliardi di dollari ecco Anatoly Junetsky è un scienziato e inventore di oltre 200 articoli scientifici 20 monografi e più di 150 invenzioni nel campo delle industrie delle costruzioni dei trasporti dell'ingegneria meccanica elettronica e chimica lui è un sviluppatore di numeri numerosi progetti di infrastrutture e trasporto basati su sistemi di trasporto spaziale e geospaziale non che tecnologie di stringa è anche è un responsabile di due progetti URSS membro della federazione cosmonautica negli anni 1998 e 2002 è anche una proteggista generale di Junetsky String Technology ha un progetto di cui parliamo oggi e allora ed è dopo 45 anni del suo sviluppo è diventato una grande azienda un progetto che oggi ha le migliori offerte del mercato ecco Anatoly Junetsky allora ha riuscito a creare un trasporto più veloce in esistenza umana e ha migliorato la possibilità migliorare tutti i servizi quotidiani e allora ecco l'UST filosofia come vi ho spiegato prima di creazione e trasporto dovrebbe risolvere a maggior parte dei problemi e non dovrebbe essere la loro fonte della loro generazione c'è anche la costruzione della struttura della linea stringa che richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto già esistente ecco e allora quando noi costruiamo linea stringa allora consumiamo 20-25 meno fin uvi perché noi non abbiamo bisogno di raddrizzare il paesaggio versare acqua e rompere le rocce e per costruire questa linea ci servono solo soliti supporti con un binario di fune per viaggiare su sky transport e fornire servizi di consegna allora con un trasporto più veloce allora UST implementa un flusso di lavoro continuo e complesso che include costi e prezzi a progettazione costruzione e gestione delle tecnologie di trasporto e infrastruttura compressa di formazione specialistica e il servizio post vendita ecco allora trasporto UST unico è una scelta infrastrutturale per la città e le sue periferie gli impianti tecnologici basato sul trasporto sviluppato UST sono costruiti secondo il proprio della costruzione modulare che consente la selezione delle materiali ruotabili ottimali con costi minimi ecco 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 per la sua costruzione noi non abbiamo bisogno di raddrizzare il paesaggio per sale l'acqua e rompere le rocce e per costruire questa strada come vi ho detto è solo necessari sono soliti supporti e allora ecco esistono tre tipi di bastacorde ridici semiridici ed elastici e ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario come sappiamo quando un'auto accelera ad alta velocità deve fare i conti con il flusso d'aria in arrivo si chiama resistenza aerodinamica e il nostro transport è milla volte più facile da gestire e grazie allo scafo affilato è in grado di raggiungere velocità di 500 km in un'ora ecco allora implementando questo progetto possiamo migliorare molte aree di servizio muoverci molto più velocemente portiamo con noi ratei e dividenti e viaggiamo in italia o in qualsiasi paese sognato ecco anche in pratica utilizzando questo trasporto possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e ottenere interventi chirurgici urgenti in tempo con un rapido trasferimento alla clinica necessaria anche servizi postali possiamo migliorare allora ogni partner della società UST è una posizione redditizia qui è possibile firmare un successore e anche ricevere entrare aggiuntive dal programma di partnership e di cui parleremo in un incontro specializzato per gli interessanti il vantaggio e il fascino della nostra azienda sta nel fatto che è una forte riunione di persone con obiettivi valori comuni e anche rappresentanti di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario che è già diventato un processo irreversibile e di cui parlano i progetti già realizzati o pianificati e firmati e dove è realizzato già questo progetto si vede quanto è pulita l'atmosfera ecco la società sky unesk street technology è stata registrata in inghilterra isole vergini come società europea nel 2014 e pertanto i diritti del single co partner sono scritti e tutelati dalla normativa europea inoltre l'ordine di partecipazione è inviato dal registro pubblico inglese al indirizzo indicato ecco quel documento e dopo la registrazione della società le sue fasi di sviluppo sono state suddivise in 15 fasi ad oggi abbiamo già quindicesima fase e dopo il completamento della quindicesima fase si sta già spostando sul mercato mondiale e ci stiamo avvicinando alla maturazione dei dividendi ecco ecco c'è un stabilimento di produzione un centro di innovazione in sharja e minsk dove lavorano 3000 ingegneri istruttori esperti che gestiscono ogni dettaglio del trasporto di futuro con la massima precisione e qui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 100 anni di garanzia ecco tecnopark è stato realizzato operativo in belarussia nella città di marina gorka e negli emirati arabi uniti in un particolare nella città di sharja nel centro di innovazione attorno all'università americana dove è già possibile visitarli all'università americana degli emirati arabi c'è una linea di prova del nostro trasporto che opera per 15 km intorno all'università e questa distanza comprende 21 stazioni ogni visitatore può sperimentare il conforto di questo trasporto e viaggiare con l'autostringa del futuro e allora mo ti dico da dove prendiamo esattamente i nostri benefici e allora il 32% della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare con proprietari di tecnologie innovative e i pacchetti azionari partono da 50 dollari e arrivano fino a 150.000 dollari a seconda dell'interesse degli azionisti un rappresentante di qualsiasi classe sociale può investire è possibile anche usufruire di rate interni a tasto zero su pacchetto azionario e noi non perdere il tempo per ottenere maggiori informazioni fornisci subito al tuo invitato il tuo link di registrazione o fissa un incontro per darti risposte più specifiche nella direzione che ti interessa ecco quando stai collegando in nostra azienda e finisci verificazione tu trovi maggiori informazioni sulla piattaforma sulla tua pagina e trovi offerte specializzate per i bimbi, per i studenti, per tutta la famiglia per migliorare il loro futuro e poi decidere quale pacchetto sarà per te ancora più utile ecco allora personalmente per me è stata una grande gioia rendermi conto di aver comprato 120.000 dollari per da soli 1.000 dollari e che cosa non avrei potuto fare nella vita reale e allora che cosa dovrei fare allora per guadagnare questa cifra o in quanti anni potrei risparmiare così tanto è perciò che per me che l'azienda USIT è diventata il senso e il supporto della mia vita ecco noi sappiamo che tecnologie sono sviluppate abbastanza è sicuro che avrai una domanda ma perché non usiamo un'auto ibrida? ma io ti dico che quando carichi l'auto ibrida in pratica devi collecarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo o a carbone o in un'altra materia e prima e quindi crea danni alla natura e ancora non siamo sicuri per cento per cento ecco allora per i propri interessi e propri obiettivi di umanità abbiamo danneggiato la natura e i paesaggi stiamo abbattendo le foreste prosciugando fiumi e bacini idrici distruggendo montagne sciogliere e quindi la natura risponde con disastri naturali e noi stiamo partecipando in questo progetto quindi vogliamo salvaguardare il nostro pianeta e tutti i nostri fatti che abbiamo fatto per la natura che non abbiamo curato mai solo che abbiamo inquinato distruggendo tutto tutta la sua struttura la natura risponde con disastri naturali ecco e ricordatevi per costruire il nostro nostro trasporto e sì costi operativi sono 20-25 volte inferiori al trasporto su strada già esistente e la produzione di energia è al minimo perché genera energia più che sufficiente e non dipende alla centrale ecco UST implementa un flusso di lavoro continuo e complesso che include costi e prezzi progettazione costruzione e gestione delle tecnologie di trasporto e infrastruttura compressa la formazione specialistica e servizio post vendita la UST dispone dei due centri di collaudo e certificazione negli Emirati Arabi Unity e in Europa dove è possibile effettuare numerose ispezioni di test tecnologie di UST allora come sapete sì negli anni 70 esistevano tanti problemi di inquinamento e la sicurezza e la sicurezza e nel 1978 il signor Andriunetski scienziato inventore proteggista dei navi volanti presento il suo primo articolo scientifico dopo 5 anni di ricerca sull'atmosfera ha presentato lavoro svolto e che in 5 anni l'atmosfera era stata molto inquinata e continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie e purtroppo questa situazione già esiste esistenza la presenza di covid-19 ci ha mostrato la necessità di un trasporto ecologico e la circolazione è causato da decenni problemi abbiamo avuto e abbiamo ancora strada sovrafolata mancanza di sicurezza natura così inquinata e di spendio di energia colossale ecco e allora purtroppo ci sono anche paesi che dovranno mettere in atto leggi sulla sicurezza che la causa in molti incidenti e sappiamo che le strade ancora così sono congestionate e dall'auto e con la loro emissione possono causare inquinamento e molte malattie questo è il motivo per cui Sky Transport è un trasporto più necessario e più richiesto nella storia dell'esistenza umana la caratteristica tecnologia del trasporto convenzionale provoca condizioni ambientali invasione il movimento delle acque aperte e sotterranee l'habitat naturale di uccelli e animali e le notte migratorie sono volante molti ettari di terreno non sono più ad uso agricolo il rumore e vibrazioni e emissioni elettromagnetiche l'inquinamento dell'aria e dell'odisfera portano l'aumento delle malattie nella popolazione i disastri e gli incidenti sugli eleodotti sono accompagnati da rilascio di grandi quantità prodotti chimici nell'ambiente secondo le statistiche ogni anno circa più di milioni di persone muoiono in incidenti e ancora di più rimangono visabili nella costruzione e il funzionamento infrastrutture di trasporto costose e tradizionali richiedono risorse finanziarie e naturali considerevolmente elevate ecco vi devo dire che profitti abbiamo nella nostra azienda e vi dico che non sono pochi ce l'ho una lista ma azienda ti offre più opportunità che vi presento oggi allora abbiamo i ratei i dividenti guadagniamo dal programma di partner l'abbiamo o l'eredità possiamo avere l'eredità o possiamo dare l'eredità disposizione sulla restituzione del denaro diventiamo con proprietari di tecnologie partecipiamo a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro destino della nostra pianeta blu passiamo alla storia come fino al troppo e creiamo capitale per una vita spensierata abbiamo la possibilità di viaggiare per raggiungere luoghi molto belli interessanti per noi attestiamo di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite e il valore nominale del nostro acquisto è direttamente proporzionale al numero delle nostre azioni e questo ancora non è tutto implementando e realizzando questo progetto in Italia crea condizioni più favorevoli in direzione del trasporto e utilizzare prodotti di tecnologie ecologiche è un risparmio per noi e anche per la nostra bellissima pianeta la cosa più importante per te e per tutti i partner e per tutta l'umanità che ci sia un prodotto reale che può visitare toccare e sentire la sua velocità e comodità per te stesso e non ha bisogno di paragonare a nessun'altra azienda quindi non esiste un'altra alternativa così economico e ecologico questo è l'unico progetto globale che ci offre molte opportunità interessanti personalmente per me e per i molti partner ancora diventato ancora più credibile che Italia sia tra i 200 paesi partner ecco anche vi posso dire che azienda tiene conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea e codiamo i tutti i diritti del comproprietario questo è un grande conforto per noi e il produttore e creatore insinorato l'unetzky presenta una relazione annuale sul lavoro svolto la nostra azienda ha una disposizione del denaro se decidi improvvisamente di lasciare azienda ti offre di aggiungere più 4% a determinate condizioni restituire i tuoi soldi come mutuotario e tuttavia questo è per qui che tuttavia se qualcuno dovesse lasciare l'azienda con questa richiesta però questo precedente non è stato finora rilevato lo stesso Anatoly Iunetzky ha già 74 anni ed è sicuro a 1.100 che tutto questo si realizzerà dappertutto nel mondo nel corso della sua vita e lui non ha rifiutato realizzare questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo quindi è un creatore un progetto così importante per tutta la forma della vita in questo pianeta ecco c'è anche un sito Iunetzky .engineer dove è possibile vedere un elenco completo di una serie di permessi e certificati che riflette 45 anni di duro lavoro del signor Anatoly Iunetzky a quale ha dedicato la maggior parte della sua vita e del suo lavoro e allo stesso tempo di questa fase del suo sviluppo l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati attualmente le specialità più richieste e altamente pagate e qui il mio team ha attivamente coinvolto potete immaginare che prima del 2014 le persone non stavano investendo letteralmente in nulla c'era solo un'idea e il grande disinteressato lavoro del creatore di questo progetto allora personalmente la mia storia è ricca di successi e progressi con gli insegnamenti in azienda ho raggiunto lo status di master perché è un'azienda in via di sviluppo e il nostro sviluppo è necessario insieme alle tecnologie del futuro quindi come abbiamo già detto lo sviluppo tecnologico non si ferma mai e noi stiamo andando avanti insieme tecnologie sviluppate e il via di sviluppo e il trasporto che è importante per me e per tutti noi e allora il trasporto esiste davvero e si adatta a tutte le condizioni climatiche e il suo corpo è resistente alle radiazioni e converte l'energia solare luce del giorno in elettricità e può letteralmente servirci senza sosta e muoversi ad alta velocità ecco i termini di trasporto passeggeri può trasportare un numero molto maggiore e in 24 ore rispetto ad altri trasporti già esistenti i termini di inquinamento siamo a zero le sostanze nocive non esistono e quindi nessun danno per la natura non diamo i termini di incidenti è il più sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli già esistenti ricordiamo che oggi abbiamo tre tipi di veicoli che necessitano di consumo e questi sono trasporto maritimo tereste e aereo e quindi e tutti questi tre causano danni alla natura e con trasporto UST possiamo evitare molti incidenti e anche inquinamento UST fa parte anche di un gruppo di aziende proprietarie delle proprie aziende che nell'implementazione delle tecnologie innovative di UST includono una gamma completa e attività tra cui azienda di iniezione completamente avanzata la propria impressa con una vista esperienza nella produzione dei veicoli e Skyway è un trasporto unico che salverà la vita a a milioni di persone centinaia e di migliaia di ettari di paesaggi e miliardi di animali e uccelli e permetterà loro a ciascuno il trasporto passeggeri è un unico trasporto che è una scelta infrastrutturale per la città e per le sue periferie ecco gli impianti tecnologia basato sul trasporto sviluppato gli ust sono costruzioni secondo il proprio della costruzione modulare che consente la selezione del materiale rotabile ottimale con costi minimi e non vi posso non dire ancora i nostri profitti se diventi un membro di questa azienda allora il tuo profitto è i dati i dividenti guadagni dal programma di partner hai l'ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro diventi un comproprietario di tecnologie partecipa a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu passi alla storia come fino a troppo e crei capitali per una vita spensierata hai la possibilità di viaggiare attestato di formazione in specialità più impegnative e altamente retribuite il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni ecco è ciò che è importante per te alla fine c'è ancora la possibilità di unirti a questo progetto ambientale più globale unico e senza precedenti e cambiare la tua vita in meglio ecco questo transport è molto richiesto per oggi e abbiamo visto che il progetto dove è stato realizzato a quanto è pulita l'atmosfera e io penso che in ogni luoghi sulla nostra terra abbiamo bisogno sviluppare e implementare questo progetto molto ecologico per la nostra salute e lunga vita soprattutto e anche migliorare molti servizi quotidiani guardando e curando la nostra natura penso che la qualità della nostra vita migliorerà tempo per tempo allora questo già era la società Unitskisting Technology con le sue offerte opportunità e orgogliosamente io stavo offrendo questo progetto per chi sono collegati e per alcuni che state guardando questo video vi consiglio come è possibile presto unirti in questo progetto per migliorare la tua situazione finanziale e migliorare la tua vita a maggior parte e creare capitale reale per la tua vita spensierata con un grande rispetto sono stato attratto dalla qualifica di investore di questa società Unitskisting Technology ecco come un investore leader speaker curatore regionale in Italia mediatore europeo interculturale questo tutto mi ha dato questa azienda dopo che sono collegata con questa società io ho cominciato un'altra vita e sono andata in via di sviluppo perché sto migliorando sempre allora ogni i miei passi allora diciamo ciao vi saluto arrivederci grazie a tutti